Non vi è distanza sulla terra che le radiocomunicazioni non possano superare ed offre oggi all'umanità il più potente ed universale mezzo di rapida comunicazione a distanza che il mondo abbia mai conosciuto, Guglielmo Marconi. Nel nostro percorso alla ricerca dell'eredità di Guglielmo Marconi abbiamo incontrato il Presidente Merito della Repubblica, Francesco Cossiga. Siamo a Roma nella casa del Presidente Cossiga per la consegna di un riconoscimento che la Fondazione Marconi ha appositamente creato per persone che abbiano abbinato ad una vita professionale, ad una carriera professionale importante di riguardo l'amore per la radio e abbiano incarnato lo spirito diciamo pure marconiano dei radioamatori, questo spirito che con tutte le sue sfaccettature positive continua ad essere importante al giorno d'oggi. E quindi è appunto con immenso piacere che io passo a consegnare al Presidente Cossiga questo riconoscimento che vede rappresenta la Villa Grifone e il mausoleo e qui sotto c'è il suo nome e lei sicuramente riconoscerà che c'è il suo nome. Perché c'è il Morse. C'è il Morse. Che adesso non viene usato più. Non viene usato più ma noi lo abbiamo conservato appositamente per questi riconoscimenti. Cioè avevo anche un tasto, sì, un tasto di quelli orizzontali. Presidente Cossiga, quanto l'Italia deve a Marconi e quanto il mondo deve a Marconi? Beh, si potrebbe forse fare la domanda quanto invito umano deve a Marconi. Non dimentichiamoci che la prima applicazione della radio è stata fatta dalle navi sia mercantini che da guerra e ricordiamoci che se alcuni si sono salvati nell'affondamento famoso del Titanic e che lo devono alla radio perché quello che si chiamava allora il radiotelegrafista riuscì a lanciare l'SOS che mi fa che fu una nave svedese che per prima aveva. Il Carpazio. Il Carpazio. Il Carpazio. A me è capitata una volta a Sassari che ero in ascolto e ho captato diciamo i miei dei miei dei di un'imbarcazione di Portoci e sa che i radiomatori hanno l'obbligo di non staccarsi dall'apparato fino a che non sono prelevati da un servizio pubblico. Trovato? La cerchia. La cerchia. Una piccola mostra. Queste varie motorola. Icom. No questa è la motorola. Icom quella digitale. questa è la motorola ha mandato la chiamata 5 0 0 2 0 c'era vittor per prova apparato passo eppure l'ho chiamato loro è arrivata avanti 0 2 0 c'era vittor per prova apparato passo io ricordo quando fu inaugurata la prima collegamento radio tra il vaticano e l'australia in occasione del congresso eucaristico che è sempre un segnale radio più deciso premette un tasto e si accese lo stadio per il congresso eucaristico d'australiano presidente c'è secondo lei un'attualità di marconi anzi vorrei riformulare la domanda in modo più preciso c'è qualcosa che emerge dal giovane marconi quel giovane amante di elettricità e che può diventare un messaggio universale per i giovani beh l'amore per la ricerca che lui ha ha coltivato fin da ragazzo adesso non vorrei sbagliare ma una delle prime radio che lui fece fu a galeta l'ho fatta anch'io adesso non credo che ci siano più ragazzi ma non credo che ci sia nessun ragazzo che anche perché sinceramente con una radio galena sono tanti segnali radio che ci sono che non si capire più nulla insomma poi marconi ha dato il nome a una specialità della marina mercantile della marina militare che si dice marconista tutt'ora sono i marconisti che tra l'altro a bordo delle navi mercantili avevano il grado di ufficiale ed erano soltanto delle apposite società pubbliche che fornivano il servizio marconi grafico diciamo così alle navi e poi allora usavano il tasto allora c'era l'alfabeto morse ma c'è un ceppo di genio italico nel giovane curioso marconi e tra l'altro la gente ignora che lui è diventato premio nobel accademico d'italia ma che non era laureato perché non si laureò proprio perché da ragazzino perdete il tempo tra virgolette ma forse quando lo disse la prima volta che aveva trasmesso non lo dichiarato neanche insomma che cos'è che l'italia avrebbe potuto fare di più per marconi e non affatto secondo lei ma a mio avviso doveva rifare la nave elettra la nave elettra ma farla navigare ma lei lo sa che c'è una legge che si chiama ancora legge marconi perché marconi non era ufficiale di marina quando assunse il comando della elettra e allora fece una legge che si chiama tuttora legge marconi una legge che consentisse ai non laureati no a chi non aveva fatto il servizio militare addirittura a chiunque sia di utilità per la marina adesso è stato esteso anche ai carabinieri all'esercito e all'aeronautica ed è la famosa legge marconi e io sono diventato capitano di corventa in forza della legge marconi a due italiane si deve una grande scoperta una è solo pochi anni fa lo ha riconosciuto il congresso americano uno il fabbricante di steariche l'eucci che ha inventato il telefono e prima gli americani dicevano che era stato bello e solo quello che non fa il congresso americano ha riconosciuto che erano italiano a new york fabbricava candele steariche e l'altro è marconi più grande è stato anche più fortunato cioè se uno accende la radio e sente il broadcasting devo ringraziare marconi in un certo senso se il mondo è diventato più piccolo lo dobbiamo anche a marconi perché ciò fa mettere grazie a tutti grazie a tutti